Oh, casa nuova! C'è il mio marito! Scusi! Muore? Mmm, mi aspettavi? Vengo subito da ti! Hai visto la nuova offerta Team, tutto compreso? Eccola! SMS, internet, minuti e uno smartphone nuovo! Che fortuna c'ho! Ti ho offerto qualcosa, signor Team? Non ho avuto tempo! Passa a Team! Minuti, SMS, internet e un Samsung Galaxy! Tutto a partire da 19 euro al mese! Non ho avuto tempo!